Il contratto di Allegri, che qualcuno ha fatto, quel qualcuno è Andrea Agnelli. E a queste cose ti deve rispondere soltanto Agnelli, noi ci siamo permessi di dire che i contratti quadriennai non li facevano neanche negli anni 80. Oggi bisogna fare contratti di due anni con opzioni in base ai risultati e lo fanno anche per i top che vanno in campo, non ci faccio due anni, poi se mi dimostri abbiamo le opzioni di rinnovo automatico, ma io mi limito al campo. La cosa più assurda di questa storia, a parte le vecchie glorie che adesso fanno gli opinionisti che difenderebbero Allegri anche se ne perdesse 50 di fila, ma non sono attendibili, è che questa Juve non sa stare in campo. Quindi io esco dal discorso solitario, è una Juve impresentabile, è una Juve che prende una rumba da un allenatore organizzato come quello del Benfica che per 25 minuti e mezz'ora del secondo tempo, se a un certo punto della partita stai 4-1, tu sei andato sotto la doccia e non te ne sei a coppia. Questo è il problema più serio. Poi ci stanno tutti i discorsi che tu hai fatto, Allegri purtroppo è superato, è inadeguato, ha dimostrato di non esserci, pensavamo fosse il primo anno, è chiaro che se tu hai tanti singoli qualche risultato lo farai, ma c'è una cifra di disorganizzazione allucinante, impressionante, inadeguata per una solietà come la Juve. Grazie.